Manola Di Pasquale, il Partito Democratico definisce un brutto pasticcio quello dei varchi ZTL nel centro di Teramo. Qual è la vostra opinione in merito? Noi lo definiamo un brutto pasticcio oramai da tempo. Abbiamo chiesto già da tempo di interrompere questo marchigegno che è in movimento. Nei primi tre mesi sono state elevate circa 15.000 contravvenzioni, da cui bisognava capire che qualcosa non andava. In realtà il Comune non ha rispettato le prescrizioni ministeriali, quindi non ha fatto il periodo di prova di preesercizio e scopriamo oggi che l'impianto non funzionava bene, che quindi nonostante ci fosse la scritta non attivo, l'impianto continuava a fare contravvenzioni, cioè a fotografare le macchine che entravano nella ZTL. Ma oltre a questo c'è stata un'errata comunicazione. Abbiamo 15.000 contravvenzioni a Teramo che corrispondono a circa un milione e mezzo di valore e il sindaco con questo importe ha chiuso il bilancio, questa è la verità. Il bilancio preventivo è stato chiuso mettendo la voce al recupero da contravvenzioni 2 milioni di euro. Potrebbero partire ricorsi a questo punto da parte di molti cittadini, molti automobilisti? Allora, molti ricorsi sono già partiti perché abbiamo residenti che hanno preso oltre 130 contravvenzioni, cioè persone che ogni volta che uscivano e entravano dalla loro abitazione venivano contravvenzionati. E abbiamo disabili perché il tesserino del disabile non viene letto da questo impianto che ogni volta che è entrato nella ZTL è stato contravvenzionato. Quindi abbiamo una situazione molto complessa e se le contravvenzioni non vengono impugnate, passano in giudicato, cioè diventano definitive e non potranno né essere rimborsate né più essere contestate. Quindi vanno comunque impugnate sempre.